bene siamo pronti per quest'altra diretta dalla spiaggia abbiamo con noi david e giovanni bene i nostri amici sono chi in conclusione di una settimana che invece sarà con un'altra settimana e vogliamo chiedervi tre punti di forza di questa vacanza iniziando da david l'animazione l'acqua e lisa elisa dell'animazione è piaciuta particolarmente perché simpatica carina bella e toscana bene soprattutto ha fatto una grande animazione per i due bambini facciamola vedere l'acqua così si rendono conto a questa è pure elisa bene mentre invece per te allora servizio tatamia vicinanza della struttura al mare e il cibo ottimo per chi non lo sa per chi non lo sa il servizio tatamia e questo servizio che ne offriamo i nostri clienti di babysitting per tutti i bambini in età compresa tra gli zero e i tre anni quindi una vacanza da rifare da rifare noi vi aspettiamo grazie e alla prossima